Mentana Morichini, il club unico per te a Borgiallo, si apre con una nuova iniziativa, un ricordo di Fabrizio De Andrè il 5 luglio con una cena a base di specialità Liguri, quindi la riscoperta della grande musica in una valle che ha tanto da offrire. Il 5 sera, ore 21, ci sarà questa splendida serata con la musica Ricordo De Andrè, questa cena particolare, chi vorrà mi chiami perché c'è un numero, è una cosa diversa, questo è un club dove ci si può inventare veramente delle serate magnifiche, spendendo pochissimo, stanno in una bella compagnia sana, che è questa la cosa importante, e mangerete questo meraviglioso carpo. Carpo cos'è? Carpo è una pianta, una succulenta che si chiama Carpo Brotus Edulis, dove c'è una linea di prodotti sia alimentari che cosmetici, è una pianta che si può mangiare, si può mettere dal sugo al brodo, è veramente tutte le signore che saranno partecipate, perché si riusciranno questa pianta di omaggio da portare a casa e da coltivare sul loro balcone. In particolare il 5, come si strutturerà la serata? Allora la serata ci saranno i saluti convenevoli, chi è Carpo Brotus, la presentazione della musica d'Andrè sul personaggio d'Andrè, per ultimo c'è tutto il menu che riceveranno tutti sulla tavola e cose del genere, ma soprattutto è questa conoscenza, con questo nuovo e vecchissimo alimento millenario, ma nuovo per l'Italia, per gli italiani, che lo possono trovare su tutte le spiagge. Di cui c'è un brevetto bellissimo, che possono incominciare a provare ad assaggiare da me come si fa, poi insegnerò ad utilizzarlo.